Don Francesco Alberti è una persona che fondamentalmente è riconosciuta soprattutto per l'ambito politico, il suo lavoro di sacerdote, giornalista, come antifascista, come una figura emblematica del partito conservatore negli anni tra le due guerre mondiali, una figura incarnata nella realtà del nostro paese, delle nostre parrocchie, della nostra diocesi. È un sacerdote che veramente nasceva da un contesto, da un contesto storico che poi ha sicuramente favorito un modo diverso di approcciarsi a questi tempi così difficili tra le due guerre mondiali. La famiglia di Don Francesco Alberti è una famiglia segnata dall'immigrazione. Già il nonno era stato fornacciaio in Lombardia o in Piemonte e poi il papà è dovuto emigrare verso l'Uruguay. Lì ha esercitato il lavoro di stucatore o diciamo di decoratore nella cattedrale anche di Montevideo. Il nonno ha avuto 15 figli, il papà ne ha avuti 14 e Don Francesco Alberti nasce come quinto figlio a Montevideo. Quindi una famiglia che in fondo corrisponde veramente a questa necessità di trovare lavoro, trovare il pane altrove, altrove come tante generazioni precedenti hanno dovuto fare. Già la famiglia di Don Francesco Alberti è una famiglia molto legata alla fede. Quindi già in famiglia ci sono stati diversi sacerdoti che sono nati dalla famiglia Alberti appunto. Una figura di sacerdote viva con voglia anche di un impegno di un impegno anche nella realtà. Prima a Roveré, dopo e dopo verso i seminari Lombardi e soprattutto a Monza. Questa prima parte di formazione l'ha portato proprio anche a conoscere l'opera dei congressi, un'opera che in un certo senso ha preparato anche il terreno poi per una democrazia cristiana o comunque per un movimento politico legato proprio all'esperienza del Vangelo, un'attenzione ai più poveri, comunque alla vita della gente, quindi a una vita politica che non fosse fine a se stessa ma che fosse legata proprio anche alla realtà, quindi la necessità di unire la fede, di unire l'adesione alla Chiesa con i problemi del momento. Don Alberti è stato per 12 anni come parroco a Bioggio. Si può dire comunque che è stato un sacerdote attivo, attento alle necessità del momento, un sacerdote che probabilmente ha cercato anche di fare un passo indietro rispetto all'impegno diretto politico del clero come invece in altri casi succedeva anche in maniera frequente. Quando lui parla nel Volta Marsina del sacerdote del paese penso che si possa riconoscere un po' la sua figura, quindi un consigliere anche spirituale ma anche poi nella vita concreta delle persone. Anche da parroco di Bioggio la grande passione che l'ha animato è stato proprio quello dello scrivere, quello di farsi portavoce nei giornali a livello politico anche iniziando vari movimenti eccetera. La sua opera giornalistica nasce dalla sua vocazione, nasce dal suo impegno rispetto alla realtà che lo circondava. Il suo lavoro è stato quello di fare in modo comunque che i valori che voleva proporre fossero incarnati nella realtà. L'aspetto più importante è stata la sua attività come giornalista e poi anche come direttore del Popolo Libertà, però è stato anche il fondatore del lavoro. Era comunque una persona che ha cercato in tutti i modi di far passare un messaggio, un messaggio che era quello del Vangelo secondo lui. È stato anche il primo predicatore chiamato a Radio Monteceneri, insomma alla radio nata nel 1933. Era un sacerdote che è andato subito al centro della vita della Chiesa, proprio cercando anche un dialogo con tutti coloro che magari lo ascoltavano ma non erano praticanti o anzi non erano legati alla Chiesa. Si è interessato non solamente dell'aspetto religioso ma è diventato anche responsabile dei media dell'epoca, quindi anche a livello svizzero. Comunque ha voluto infondere i valori democratici, i valori tipici dell'essere svizzero anche nell'ambito giornalistico. Lui stesso si è autodefinito una voce che grida nel deserto, un po' come San Giovanni Battista. In un momento in cui, tra le due guerre, in cui nascevano e si sviluppavano e prendevano il potere i totalitarismi fascista, poi comunista, poi anche quello nazista. Lui è stato una voce profetica, una voce che ha messo in guardia e secondo me ha fatto in modo che ci fosse un'attenzione anche poi, successivamente, anche dopo la sua morte, rispetto alla sorte di queste persone che sono dovute scappare, che sono arrivate anche nel nostro territorio. Sicuramente è stata una di quelle persone che, lottando controcorrente, in un momento in cui tanti tacevano, tanti magari trovavano anche una qualche forma di collaborazione, soprattutto con il fascismo, lui ha dato veramente voce a un Ticino che non ci stava, che era fiero delle proprie tradizioni, che era fiero della propria terra, ma che era aperto ai valori fondamentali, appunto, che nascono dal Vangelo, ma che poi sono stati un valore comune che ha salvato tante persone.